Buonasera gentili telespettatori, benvenuti a questa nuova trasmissione Focus Passi in Salute che come dice la parola stessa si vuole proprio occupare di prevenzione, di salute, di ambiente, della nostra salute in termini generali e oggi abbiamo come gradito ospite una persona estremamente importante perché crede nell'attività fisica come un elemento di prevenzione e di tutela della salute, lui è il presidente del Custorino ed è Riccardo Delicio, ciao Riccardo grazie per essere qui con noi, buonasera a tutti voi e sembrerà forse strano ma il presidente del Custorino quindi importanti società sportive di campionati importanti anche di prima serie che è un fermo sostenitore di quanto l'attività fisica sia un elemento fondamentale per tutelare la salute dei cittadini per anche garantire un equilibrio psicofisico nelle persone e lo vedremo anche dopo aver visto questa scheda che ho presentato, preparato per voi in cui ci sono delle bellissime immagini di un video proprio confezionato dal Custorino e che prego adesso la regia di mandare in onda La missione del Custorino è promuovere e sostenere lo sport universitario organizzando manifestazioni internazionali, nazionali o locali che periodicamente vedono incontrarsi studenti atleti di tutti i paesi come l'Universiede ed anche sostenendo la partecipazione dei propri atleti ai vari campionati universitari. Il Custorino favorisce la pratica e la diffusione dell'attività sportiva universitaria. La promozione dello sport riguarda anche i giovani in età scolastica per far conoscere il mondo dell'Università e diffondere la cultura dell'attività fisica. In quest'ottica per l'ente è a notevole rilevanza la continua ricerca del miglioramento del servizio reso e la soddisfazione dei propri clienti. La customer satisfaction e l'ascolto delle esigenze dei propri tesserati sono ormai da anni lo spunto di riflessione per la valutazione della qualità dei servizi erogati da parte del Custorino e per il miglioramento degli stessi. In tal senso l'adozione di modalità consolidate nel tempo per verificare la soddisfazione del cliente è ritenuta dalla Presidenza l'approccio necessario per garantire il successo dell'ente. Negli ultimi anni il Custorino ha investito energie e risorse economiche per potersi relazionare al meglio con il proprio pubblico anche e soprattutto a livello tecnologico ed informatico. Espressione di questo orientamento della politica dell'ente è il sito web che raccoglie tutte le informazioni che possono risultare utili per l'utente finale ed una sezione in inglese a beneficio del pubblico straniero. Uno degli attori fondamentali che viene costantemente coinvolto nelle iniziative e negli eventi del centro universitario sportivo torinese è l'associazione di volontariato sportivo Primo Nebbiolo. Nata nel 2007 l'associazione si propone di promuovere progetti volti a favorire la pratica e di valori positivi dello sport nei confronti dei cittadini di ogni paese e nazione favorendo l'intercultura, l'integrazione ed il progresso morale, sociale e culturale degli individui e in generale il rispetto dei diritti umani. Queste intenzioni e valori si ritrovano perfettamente nel modus Berandi del Custorino. Bene, grazie per tutto quanto state facendo. Allora cerchiamo di conoscerlo proprio dal dentro il Custorino. Tu Riccardo hai proprio recentissimamente portato a compimento un progetto di finanziamento da parte della Compagnia di San Paolo di una ristrutturazione degli impianti sportivi universitari della città di Torino. È un impegno, se non ricordo male, per un milione e mezzo di euro. Tutti i giornali ne hanno parlato, ne vogliamo parlare anche noi perché so che tu sei stato molto dietro a questo progetto. Beh, intanto ti ringrazio per la domanda. Noi abbiamo un progetto globale di 3 milioni e mezzo di euro. La compagnia lungimirante su tante problematiche che la città può offrire al sistema universitario torinese ha pensato che sullo sport poteva investire, sul servizio sport che tutti gli stranieri richiedono. Beh, io credo che aver erogato un milione e mezzo di euro in 5 anni può dare veramente la svolta a questo progetto del Custorino e dell'Università del Politecnico di Torino per efficientare questi impianti. Perciò evidentemente oggi dare dei servizi vuol dire anche dare della qualità di ambienti. I nostri impianti sono in overbook, abbiamo davvero strutture strapiene, stracolme di studenti universitari e non solo. Oggi con questa ristrutturazione che noi abbiamo già programmato, cominciando da Corso Sicilia e da Via Panetti, arriveremo davvero a qualificare gli impianti ma a aumentare la possibilità di partecipazione da parte degli studenti e questo era il vero grande obiettivo. Naturalmente questo è stato un bel sogno concretizzato, ma il Custorino non si è fermato, l'Università di Torino e il Politecnico di Torino stanno continuando a programmare una città sempre più universitaria e sui servizi si sta giocando una grande carta. Sono convinto che nel prossimo futuro personaggi come Fassino potranno dare continuità al progetto di Torino città universitaria e rendere davvero questa città usufruibile nei suoi servizi per gli studenti che a volte sembrano semplici, però poter con la tessera universitaria viaggiare nella città, con la tessera universitaria entrare nei musei di questa splendida città, poter usufruire del servizio sport che in Europa e nel mondo è un servizio integrato nelle università che viene offerto gratuitamente. In questo senso è il mio sogno nel prossimo futuro avere davvero un campus universitario, caso mai al Politecnico di Torino, oppure a Grugliasco nel nuovo polo scientifico che nascerà dell'Università di Torino o addirittura nelle ristrutturazioni all'interno della nostra città pensare sempre anche al servizio sport. Questo credo che per un uomo come me che ha dedicato la vita allo sport, allo sport universitario e all'attività fisica che si serve agli studenti e ai cittadini di Torino, questo è davvero un grande sogno. Ecco, adesso conosciamoti un pochino meglio perché giustamente il tuo impegno è ormai nei confronti del Custorino, da tanti anni ti ricordiamo anche nelle giunte precedenti di questa città, l'impegno del Custorino è sempre stato molto forte. Ma vogliamo fare un pochino della tua storia, come nasce il tuo rapporto col Custorino, da quanti anni stai seguendo come Presidente il Cus stesso? Io ho sempre detto che sono stato salvato dallo sport, cosa vuol dire? Vivevo a Cascinevica, una cittadina fuori dalle città di Torino, vicino Rivoli, una zona abbastanza difficile. Allora, grazie allo sport ho cominciato a viaggiare sui Pulma per arrivare allo stadio comunale per fare dell'atletica leggera, mi sono appassionato in maniera straordinaria l'atletica leggera. Da lì ho pensato che la mia opportunità poteva essere lo sport, ho finito i miei studi molto lentamente. Mi sono iscritto però all'Isef, ero sicuramente convinto già da bambino di poter fare l'Isef. L'Isef di Torino, in piazza Rivoli, in piazza Bernini, dove ci ho dedicato Anime e Cuore. La mia prima società è stata al Custorino, ho 13 anni, mi sono tesserato al Custorino, ho fatto il record italiano di categoria già a 14 anni, perciò insomma, molto probabilmente ero un bambino da oratorio, perciò molto dinamico, molto magro, molto alto, caratteristiche che per chi fa sport forse sono fondamentali. La tua disciplina? Salto in alto, ho giocato in Serie C di Palacanestro, mi piace ricordare che giocavo a Palacanestro nella polisportiva Rivoli, sono stato venduto per 12 palloni a Collegno ed era apparsa questa notizia su tutto sport, i miei genitori avevano raccolto questo documento che ho ancora conservo. E beh, insomma, la mia storia è legata veramente allo sport. Al Custorino poi ho avuto la fortuna di poter fare delle esperienze straordinarie con allenatori incredibili come Locatelli, Astrua, Madaro, Canova, Gaudino. Mi sono formato come allenatore, ho fatto l'allenatore anche al Custorino, lasciatemi dire, di buon livello nel salto in alto e nei alti. Poi qualcuno mi ha chiesto di diventare dirigente del Custorino, Nebbiolo ha cercato di portarmi in IAF, perciò a Monte Carlo, piuttosto che esperienze internazionali, ma ho sempre pensato, ho sempre sognato di poter fare qualcosa per la mia città, per il mio CUS e ho sempre pensato di lavorare indefessamente proprio per questo obiettivo. Fortuna vuole che ho incontrato anche all'interno delle università delle persone straordinarie come i rettori che ho incontrato, da Profumo, Deltin, Bertolino, davvero oggi con il professor Giglie e con il professor Aiani stiamo continuando questo iter, portando sempre più dentro l'università il sistema sportivo, l'attività fisica. Credo che siano davvero degli elementi di grandissima integrazione, di grandissima socializzazione e l'università su questi fronti è molto molto attenta e credo negli ultimi dieci anni ha fatto passi da gigante proprio per favorire l'attività fisica all'interno delle università, in una città che si è evoluta moltissimo e oggi anche la politica ha capito che l'attività fisica, lo sport, lo sport universitario sono caratteristiche fondamentali per una città come Torino che si dichiara fortemente a vocazione universitaria. Ecco la cultura dello sport, allora tu prima hai citato velocemente Primo Nebbiolo che sicuramente tutti riconoscono come presidente della FIDAL, della JAF e poi del custodino stesso, della FISU, ecco un personaggio importantissimo anche grazie al quale sono arrivate anche importanti manifestazioni, io ricordo le prime universiadi e poi vorrei anche con te parlare delle ultime universiadi del 2007 che sono venute subito dopo le Olimpiadi Invernali. Qual era il tuo rapporto con Primo Nebbiolo e che ricordo hai di lui? Beh intanto ho un rapporto straordinario perché mi ha preso come suo figlio putativo, lui era senza figli, io ero il giovane atleta dei salti. Anche lui era un saltatore ma in lungo? Un saltatore in lungo, sì sì. Davvero ho sentito l'affetto, molto probabilmente io ero anche, insomma facevo parte di una famiglia non facilissima e pur di farmi continuare l'atletica mi ha portato a formi a un anno dove io ho fatto la prima geometra e poi sono ritornato a Torino, mi ha sempre seguito con attenzione, devo dire che ho sentito fino all'ultimo giorno il suo affetto, l'ultima telefonata mi ha fatta perciò due giorni prima di mancare, mi ha chiamato dal taxi dicendomi che aveva bisogno di incontrare Umberto Agnelli perché voleva parlargli del progetto CUS, del progetto Universia ed è perciò insomma era una cosa molto di feeling, di affetto, di sentimento, ancora oggi ho cercato di salvaguardare il suo nome con il meeting mondiale di atletica leggera che ho portato avanti per tantissimi anni ma oggi è davvero molto complicato, credo se posso dire una cosa che mi è mancata non sono riuscito a convincere l'Università di Torino a dare l'aereo d'honorem a Primo Nebbiolo perché molto probabilmente è un personaggio così importante in una città come Torino dove ha rappresentato veramente l'uomo più potente al mondo dello sport, ha incontrato gente come Mandela, gente come Fidel Castro, tutti i papi, cioè un personaggio veramente che tutti ci hanno invidiato ma ancora oggi quando giro nel mondo dello sport universitario non solo, tanta gente mi riconosce a Torino questa sua nascita, questo suo personaggio giustamente mi dicono che ha fatto vivere anche i dirigenti mondiali altissimo livello e non voglio dimenticare che a Torino sono nate nel 59 le Universiedi, oggi le Universiedi è il secondo evento al mondo, i paesi si contendono questa manifestazione dove arrivano 14-15 mila studenti, oggi forse riusciamo a portare a Napoli nel 2019 l'Università di Estiva dove lo Stato italiano molto probabilmente cercherà di riqualificare tutta la zona di Bagnoli perciò evidentemente queste grandi manifestazioni servono anche a creare e a migliorare le città e a potenziare il sistema universitario, questo mi piace molto perché evidentemente il nostro futuro è lì E poi a Nebbiolo è stato dedicato allo stadio del Parco Ruffini Questo è stato davvero una vittoria anche del Custorino e della città perché la città mi ha immediatamente chiesto se poteva pensare di portare avanti questo discorso con la Giunta e aver pensato a dare il nome dello stadio Primo Nebbiolo che è davvero il nostro stadio in eccellenza per l'atletica leggera a questo personaggio con la IAF che ci ha regalato un'opera d'arte da 300 mila euro che poche vedono ma è una bellissima effigia, una enne stilizzata in marmo devo dire è stato un bellissimo gesto nei confronti della nostra città ma ancora oggi Torino è al centro del sistema mondiale sportivo universitario perché avendo dato la nascita alle università nel 59 ancora oggi tutte le nazioni che prendono le università a cui vengono assegnate le università e devono avere comunque il fuoco acceso nella nostra città questo è un bellissimo simbolo per noi dello sport che viviamo ancora di sentimenti credo che siano veramente delle cose straordinarie che comunque permettono a noi del Custorino di avere rapporti con tutte le università del mondo e con tantissimi paesi Ecco proprio di questo ve lo parlando Torino in questi anni tutti le riconoscono che è una città che è cambiata una città che si è maggiormente internazionalizzata che ha messo al centro della sua attività la promozione della cultura la promozione del turismo, la promozione di tutta una serie di cose e naturalmente lo sport gioca un ruolo importantissimo nella promozione di una città ma è una città che è diventata sempre più internazionale ecco voi nel mondo dello sport come vivete questa internazionalizzazione? sono aumentati i praticanti dello sport che provengono da altri paesi anche da paesi lontani e che sono entrati a far parte delle vostre squadre del vostro mondo universitario sportivo? Io credo che oggi lo sport è la faccia da padrona nel nostro sistema universitario abbiamo insomma dal 2007 dove abbiamo organizzato l'università di qua a Torino dove l'università e il Politecnico dichiaravano 800 studenti stranieri oggi siamo a 15.000 io credo che per una città come Torino è anche una questione economica non solo di grande internazionalizzazione grazie al sistema universitario io sono convinto che questi ragazzi che vengano a formarsi a Torino saranno il futuro del loro paese sono convinto che grazie a questa internazionalizzazione Torino potrà nel prossimo futuro interagire con questi paesi perché questi ragazzi vanno a fare i presidenti di aziende i presidenti di associazioni faranno i politici dei loro paesi perciò evidentemente conto molto sulla continuità dei rapporti tra questi ragazzi e la nostra città e i nostri atenei beh in questo senso lo dobbiamo dare anche a insomma merito alle nostre università che hanno speso moltissime energie non solo economiche ma di rapporti proprio per rendere internazionale questa città che oggi si merita questo nome perché qualsiasi straniero venga a far turismo nella nostra città va via incredibilmente soddisfatto da questa bellezza di questa città che è davvero a dimensione umana che è stata riqualificata negli ultimi 15 anni e devo dire che una volta ho sfidato addirittura anche sui media chiunque mi porta una persona che vada via arrabbiato disgustato o lasciatemi dire comunque non si sia trovato bene nella nostra città il custodino eroga 250 euro devo dire che è stata una battuta per oggi chiunque invita un amico a Torino fa bella figura ecco facciamo adesso un percorso tra l'altro abbiamo anche dei video a supporto di quanto ti chiedo allora partiamo dalle grande cerimonia inaugurale di chiusura delle olimpiadi 2006 che hanno sicuramente segnato un punto importantissimo per la città l'hanno fatta conoscere anche da tanta gente poi l'anno successivo le vostre universiadi importantissime 2007 per arrivare poi a Torino capitale europea dello sport facciamo un filo logico vediamo magari anche due immagini a supporto e cerchiamo di capire che eredità hanno lasciato alla città e allo sport della città di Torino ecco beh io direi che intanto l'olimpiade è stata davvero straordinaria dove ha coinvolto una città dove abbiamo trovato gente disponibile a lavorare gratis come volontari ma anche una città che ha investito tantissimo e oggi i risultati si vedono devo dire che in maniera gogliardica mi piace dire che siamo l'unica universiare che ha avuto come test event l'olimpiade perciò noi siamo partiti col piede giusto perciò avevamo l'esperienza dell'olimpiade abbiamo sfruttato a pieno e devo dire che è stata ancora oggi l'università che ha avuto più pubblico in assoluto che ha avuto palazzetti stracolmi che ha avuto atleti di grandissimo livello e abbiamo goduto di quella manifestazione ma già mentre lavoravamo pensavamo già a come sfruttare questa opportunità e l'opportunità è stata quella di poter interagire con circa 1500 università del mondo dove abbiamo mandato i comunicati dove hanno visto la nostra università dove ci hanno chiesto i diritti per pubblicare l'evento e devo dire che è stata straordinaria questa esperienza questo ha permesso a Torino però di credere molto nelle attività sportive di alto livello dei grandi eventi e abbiamo avuto anche la politica che è stata lungimirante cercando grandi eventi io ricordo una delle prime volte che ho incontrato il nostro sindaco Fassino che è venuto a trovarmi al CUS dove si è parlato di Torino città universitaria e mi chiese se nella nostra intenzione era la possibilità di trovare dei grandi eventi e beh io credo che Torino capitale europea dello sport che all'inizio tutti i dirigenti compreso me erano scettici poi devo dire che è stato molto bravo il nostro assessore Gallo a riempire il contenitore che all'inizio era vuoto ma alla fine straordinariamente pieno di grandissimi eventi che hanno continuato l'iter di una Torino vivibile una Torino molto sportiva molto universitaria e oggi mi auguro che nella continuità la nostra politica pensi a non frenare questo iter abbiamo bisogno di eventi di eventi importanti non si può più sprecare energie economiche però molto probabilmente lavorando in sinergia si possono fare ancora grandi cose una battuta molto soft che io però ho ascoltato durante l'apertura dell'anno accademico sportivo il nostro presidente del Cusi Lentini ha dichiarato che Napoli era candidata per il 2019 all'universiade e che c'era qualche piccolo problema io ho sentito con le mie orecchie Fassino dire caro presidente se per caso non le fate a Napoli Torino è disponibile è disponibile e beh credo che questo la dice molto su un personaggio come Fassino che insomma a livello internazionale ha una vision completamente aperta ecco proprio infatti di questo volevamo parlare allora siamo arrivati ad essere la capitale europea dello sport con una bellissima cerimonia e con tutto un anno che però non è stato solo dedicato alla pratica sportiva agonistica ma anche alla attività fisica all'educazione allo sport è stata portata nei parchi pubblici nei giardini si sono fatte delle manifestazioni aperte un po' a tutte le fasce di età questo indubbiamente ha cavalcato molto il ruolo educativo che lo sport può avere anche per la tutela della salute delle persone credo che negli ultimi 4-5 anni il custodino si è impegnato molto su questo io sono un dirigente sicuramente di formazione sportiva agonistica sono convintissimo che l'attività agonistica è altamente formativa per i ragazzi ma oggi credo che il futuro dello sport passerà sicuramente per un abbinamento molto interessante tra l'attività fisica e la sanità questo permetterà davvero di risparmiare miliardi di euro e ripeto miliardi di euro che politicamente potrebbero essere riutilizzati sicuramente per qualificare i servizi medici ma dall'altra parte potrebbe essere molto molto interessante che energie economiche importanti rifiniscano nel mondo dello sport per progetti che possano continuare l'iter di promozione dell'attività fisica nei confronti dei nostri cittadini del nostro popolo beh su questo l'idea che forse in questo momento è vincente la nostra attività nuova che è Just Women I Am che abbiamo inventato tre anni fa e tra l'altro abbiamo delle immagini realizzate dal nostro Federico questo va proprio a sensibilizzare intanto un settore che comunque pratica sicuramente molto meno dei maschi lo sport che sono le donne ma il nostro obiettivo è proprio quello di arrivare alla casalinga alla donna che lavora e ha famiglia perciò si può dedicare poco tempo questa attività credo che possa stimolare l'idea che anche un'attività fisica lenta ma continuativa possa essere molto molto utile alla nostra sanità al nostro benessere alla nostra qualità della vita facendo risparmiare tanti tanti denari perché a volte alla persona anziana che ha male a una spalla forse basta un mese di attività fisica piuttosto che fare tecar piuttosto che fare prendere pastiglie piuttosto che questo ci credo ci credo molto è un itale che sto continuando sono molto contento che le università e i politici su questo ci siano non vicino addirittura ci promuovono in questo sistema con convegni di altissimo livello sull'oncologia legata all'attività fisica stiamo facendo un progetto molto interessante con il rilanciato centro medico dell'università di Torino di Piazza Bernini dove cercheremo di creare le condizioni per cui chiunque ha bisogno ha come riferimento un centro universitario di altissimo livello che sarà a disposizione del sistema universitario tutto ma anche dei cittadini che ne hanno bisogno perché a volte non è così facile anche per gli stranieri che sono qua a Torino trovare appoggi diciamo di qualità a livello medico e poi naturalmente io penso a tutti gli studenti universitari stranieri che arrivano a Torino per fare attività sportiva le regole dell'Italia e le leggi sono della visita medica già fare una visita medica per un ragazzo straniero può essere già una difficoltà e molto probabilmente questo centro medico di Piazza Bernini potrà sicuramente soddisfare queste esigenze di qualità e di opportunità di servizio bene prima di chiudere questa prima parte dell'intervista a Riccardo Delicio vorrei ancora ribadire appunto alcune delle iniziative prossime che voi state in qualche modo seguendo adesso tu parlavi di convegni se non ricordo male mi parlavi prima della trasmissione che c'è un'iniziativa a breve un convegno con l'assessore Pellegrino e con altre personalità del mondo accademico la dottoressa Segreto che dovrebbe essere tra l'altro in una delle prossime puntate di Passi di Salute una nostra ospite ecco di che convegni si tratta? ma so io sono molto contento che la gente oggi abbia preso coscienza che questa città ha una grande carta da giocarsi che è quella del sistema universitario perciò quando si parla di Torino città universitaria Torino città campus a cielo aperto mi fa molto piacere perché sono concetti che avevamo cominciato a spingere 5-6 anni fa oggi fortunatamente Torino in questa trasformazione turistica di eccellenza anche innovativa di ricerca legata al sistema universitario ha il dovere di pensare anche proprio alla formazione e allo sviluppo di questo sistema universitario ben venga l'idea che tutti ne parlano ma specialmente chi poi farà la politica di questa città e questo è importante perché poi noi possiamo lanciare progetti possiamo lanciare idee possiamo trovare anche del denaro ma fondamentalmente senza l'appoggio della politica questo credo avrà molte difficoltà ad andare avanti io credo che oggi però la credibilità del nostro sistema universitario sia del Politecnico che dell'università non è più messa in discussione e chiunque ha piacere di fare del bene per questa città di lavorare per i cittadini di questa città non può fare a meno che confrontarsi col sistema universitario benvenga questo e noi che ci onoriamo di rappresentare un servizio un piccolo servizio che è quello sportivo partecipiamo attivamente poi voi tra l'altro avete inaugurato un po' questa stagione di eventi c'erano mi pare quasi 18.000 persone in piazza San Carlo per la manifestazione Just a Woman I Am direi che la prefettura ci ha detto 60.000 persone 60.000 quindi io sono stato molto 11.500 hanno partecipato forse partecipanti alla camminata la camminata non competitiva 60.000 voglio dire un successone una cosa mi piace dire che grazie a questo evento nel 2015 siamo riusciti ad avanzare 22.000 euro che l'Università Politecnica hanno organizzato un convegno di altissimo livello era questo con il professor Bussolino sull'oncologia sulla formazione dei nostri ricercatori quest'anno facendo gli ultimi conteggi arriveremo a superare 30.000 euro di avanzo e già oggi stiamo parlando con l'Università proprio con i due prorettori due splendide signore che sono la Barberis la dottoressa Barberis e la Montanaro del Politecnico stiamo già lavorando per come organizzare questo convegno che metterà insieme alimentazione attività fisica e il il cancro al colon che è comunque strettamente correlato all'attività fisica l'alimentazione ci piace che lo sport possa partecipare a questo tipo di cultura innovativa molto bello bene termina qui la prima parte di Focus ci rivediamo fra pochi minuti subito dopo la pubblicità prego che si rivediamo a questo tipo di